L'assessore regionale dei lavori pubblici Aldo Salaris intervenga nei confronti di Anas per sollecitare una limitazione dei disagi per gli automobilisti ed una forte accelerazione dei lavori di manutenzione straordinaria nel ponte della statale 126 all'altezza di Sgarnaus nel comune di Carbonia, scrive Fabio Usai nell'interrogazione. Premesso che i lavori di manutenzione straordinaria del ponte all'altezza di Sgarnaus, secondo quanto indicato nell'ordinanza emanata dall'Anas lo scorso 18 febbraio, la cui scadenza era prevista per il 17 maggio ma ora prorogata fino al 19 luglio, sarebbero già dovuti terminare in anticipo rispetto al periodo estivo, è considerato che la strada statale 126 è un'arteria importante percorrenza che collega i centri del Basso Sulcis, al Sulcis e all'Iglesiente e che gli attuali disagi costituiti dalla creazione di lunghe file nel tratto di carreggiata oggetto delle manutenzioni per via della introduzione di un senso unico alternato regolato da un semaforo, nel periodo estivo con l'incremento di turisti e mezzi di trasporto su strada andranno notevolmente a peggiorare, ha aggiunto Fabio Usai, anche in considerazione del fatto che la viabilità del Sulcis presenta di per sé già numerose criticità, sia in termini di sicurezza per gli automobilisti, i motociclisti e i ciclisti, che nelle tempistiche di percorrenza per trasferirsi da un centro all'altro del territorio e soprattutto alle località di mare, rappresentando così un punto di debolezza nel livello generale dell'offerta turistica, interrogò l'assessore dei lavori pubblici Aldo Salaris, ha concluso il consigliere regionale sardista, affinché illustri quali siano le azioni messe in campo dal suo assessorato o di pertinenza e in generale dalla giunta regionale per sollecitare ANAS affinché ricerchi, soprattutto in vista dell'imminente stagione estiva, soluzioni che possano limitare quanto più possibile i disagi degli automobilisti e nel contempo accelerare fortemente le tempistiche dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sulla strada statale 126.